Dicaci mi il nome! Sant'è no! Sei a fuolo? No! Quanti siete? Ottanta capi! Quanti? Quanti ce ne sono? Ottanta! Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? Ottanta capi! Ottanta capi! Viene Toro Mexi, tu stui? Quando hai gente? Mai! Quando hai gente? Mai! In nome di Gesù! Dicaci mi! Dominus figla, vittimi, diequo exiet! Il Signore Gesù ha fissato il giorno d'andartene! No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato ancora? No! Sarà lui a fissarlo perché tu non conti una cicca! Ovvero un colpo di... È la mia! È la mia! È la mia! È di Cristo! 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 Per intercessione della Vergine Maria che ti annulla, Satana! Lo sai che lei ti annulla, che contro di lei non puoi fare niente, contro di lei non puoi fare niente! E se vuoi solo andarsi a nascondere, puoi solo andarsi a nascondere! E se vuoi! Un po' di lei non puoi fare nascondere la Vergine Maria! Ecco! 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 Un intercedente, immaculata Virgine di Maria, ex in un, die metano amecito stui, come il bosigno, e tu viva il ministro lice di indigno, forse sinomibus averia, neque an creatura anzei, legge costante, cuore nobile, un lo modo antisopenda, il nobile padre, figlio, figlio, santo, via, ha bisogno di bere un bicchier d'acqua? Eh magari si, un bicchier d'acqua?